Buonasera e buongiorno a tutti quanti, oggi è quasi la vigilia, sabato ci saranno partite e poi la domenica a mezzogiorno e mezza giocherà la Roma, sarà una partita molto difficile perché il Genoa è una squadra molto accigna, gioca tutto dietro la linea della palla e la partita si risolverà con un episodio a noi mancherà verità, ormai ci siamo abituati perché le assenze sono tante e la Roma sta facendo a meno di parecchi giocatori non è una scusante ma la verità è un dato reale, domenica tornerà qua a Roma un giocatore che io ho amato e amo ancora cioè Kevin Strootman, io non in bocca al lupo per la partita ma spero che la Roma vinca e intanto in bocca al lupo anche a Jordan Verredu che starà fermo tra i 30 e i 40 giorni la Roma domenica rientrerà a Smoling, mancherà con Bulla, spero molto fortemente che rientrino in pianta stabile i Banez e Dzeko però dopo questa partita purtroppo vi do un saluto, una buona domenica a tutti quanti buona fine settimana forza Roma speriamo bene forza Roma sempre, grazie ciao 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 ciao